Buongiorno, sono Leonardo Bruni, Presidente dei giuristi democratici di Padova, Giorgio Ambrosoli. L'associazione è stata fondata nel 2004 e fin dalle sue origini si è distinta per l'attuazione e la difesa dei principi supremi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale Repubblicana. In questo senso abbiamo inteso la formazione dell'Avvocato, nel senso etimologico di dare forma. In tal modo, accanto ai canonici convegni, abbiamo sempre organizzato dei format originali. Tra questi si distingue sicuramente diritti al cinema, attraverso una rassegna cinematografica, si discute di varie tematiche giuridiche, e diritti di carta, stavolta con un libro protagonista dal quale si enucla una questione di diritto. Accanto a questo abbiamo anche ideato e condotto una trasmissione radiofonica dal titolo Quelli che è il diritto presso gli studi di Radio Cooperativa Padova. Siamo sempre stati in prima linea anche per la difesa degli ultimi e in particolar modo degli immigrati e dei richiedenti asino. Abbiamo inoltre una rete di cooperazione insieme ad altre associazioni con i comuni di Padova per la difesa di diritti umani e in particolar modo per la difesa degli avvocati e di difensori di diritti umani nelle varie zone del mondo. Proprio per questo motivo si capisce perché per noi giuristi democratici la funzione dell'Avvocato non è solo la funzione di un mero professionista e specialista nella materia giuridica, ma è anche quella di un cittadino che è più conscio degli altri cittadini ma a loro stesso livello, propugna i valori costituzionali e analizza e critica i ghiatti e le leggi emanati dal Parlamento e dal Governo. In questo senso l'Avvocato non può e non deve essere semplicemente un esperto della sua materia, ma deve anche attingere ad altre materie quali la storia e la filosofia. In questo modo si capisce che essere giuristi democratici è una scelta di campo, ma una scelta di campo che arricchisce la professione e non solo quella. Grazie per l'attenzione. Grazie.